Buonasera e ben ritrovati a Dido, la trasmissione del venerdì dagli studi del Polo Tecnologico di Noi TV. Questa sera parliamo di cuore e dintorni e abbiamo come ospite Francesco Maria Bovenzi. Buonasera, Francesco Maria Bovenzi, cardiologo, direttore di cardiologia agli ospedali di Lucca e Castelnuovo e promotore di Cardio Lucca, il meeting giunto alla sua tredicesima edizione che è diventato negli anni uno dei maggiori eventi del settore in Italia, meeting che si svolgerà la prossima settimana. Proprio per questo abbiamo voluto dedicare questa serata ai problemi della salute, in particolare del cuore. Ci sarà la possibilità di fare domande al dottor Bovenzi e proprio su questi argomenti tramite sms o whatsapp al numero che vedete in sovraimpressione alcune domande sono già arrivate. E' una serata un po' particolare perché c'è questa allerta meteo, codice arancione per pioggia e vento un po' su tutta la provincia. Vi ripetiamo quello che abbiamo già detto nel Tg prima, scuole chiuse a Lucca domani sabato 2 febbraio, scuole chiuse anche in tutti i comuni della Mediavalle e anche a Castelnuovo, Garfagnana. Poi per altri aggiornamenti ci rivedremo nel Tg delle 22 e 30. Allora, andiamo a noi, dottor Bovenzi. Intanto partiamo da alcuni dati che lei stesso ha fornito nella giornata di oggi, proprio in vista del convegno della prossima settimana. Dati che riguardano il reparto di cardiologia di Lucca. A Lucca sono oltre 700 le persone che ogni anno sono colpite da infarto, un lucchese su 3 è iperteso e in sovrappeso. Uno su 5 ha il colesterolo elevato e fuma. Quindi, insomma, ci fa un quadro della patologia cardiaca abbastanza chiaro. Questi sono i dati di cardiologia a Lucca, ma si discostano da quelli nazionali in qualche modo o no? No, diciamo che più o meno sono i dati dell'epidemiologia e delle rilevazioni che più o meno noi abbiamo anche a livello nazionale. Però chiaramente focalizzati in questa realtà necessitano di risposte. Queste risposte sono quelle che noi con la nostra organizzazione e col nostro lavoro riusciamo a dare alla cittadinanza. Per cui colpisce quel dato di 700 infarti e oltre nella nostra realtà, a cui però esiste una risposta ai dati di attività molto forte, che sono il numero di pazienti e di vite che noi riusciamo a salvare ogni anno. Che è un numero elevato. Che è un numero considerevole. Ci sono delle stime che si possono fare sui numeri concreti rispetto a quello che è il dato prodotto, ma sono decine di pazienti che riusciamo a salvare in termini di vite umane. Ecco, magari sull'attività di cardiologia Lucca e Castelnuovo parleremo anche più avanti. Intanto comincio a farle qualche domanda tra quelle che sono arrivate. Questo nostro telespettatore ci chiede che cosa è esattamente il soffio al cuore e se è pericoloso. Ecco, il soffio al cuore viene spesso diagnosticato, però poi non vengono date altre informazioni, non se ne sa molto di più. Ma è bella questa domanda perché riporta un po' al valore del medico e della medicina, perché richiama l'importanza dell'ascoltazione cardiaca, qualcosa che oggi con la medicina moderna si va perdendo. E quindi col fonendoscopio è possibile ascoltare questa condizione particolare, non sempre patologica, che è la presenza di un soffio, cioè di questo rumore aggiunto. Normalmente il cuore ha un'attività abbastanza silenziosa con un flusso che scorre laminare all'interno delle cavità del cuore, all'interno dei vasi. Quando questo flusso da laminare diventa turbolento o per restringimenti o per estacolo sulle valvole o per un flusso iperdinamico, per cui sbatte contro le pareti, si generano dei rumori, il rumore più classico, più conosciuto, quello che ha avuto più impatto con la cittadinanza, con il pubblico, è quello del soffio. Per cui l'identificazione di un soffio cardiaco spaventa sempre, non sempre è così, è molto frequente nei bambini, in molti contesti è anche fisiologico. Bisogna semplicemente sapere ascoltare un cuore, distinguerlo dal respiro, perché molte volte c'è questa confusione, soprattutto nei toraci piccoli, e poi lì dove il soffio si sospetta che può avere una genesi legata a problematiche valvolari, inquadrarlo come correttamente credo tutti i medici oggi sappiano fare. Altra domanda, c'è una dieta alimentare che fa bene al cuore? Il discorso della dieta sicuramente, storicamente abbiamo assistito ai consigli di riduzione dei grassi saturi, per cui la riduzione dei lipidi, perché i lipidi grassi vanno a incidere sulla formazione delle placche all'interno dei grossi vasi, ma soprattutto dei piccoli vasi e delle coronarie, e quindi c'è stata per anni questa idea che i grassi saturi facessero male e che quindi si spingeva di più sul consumo di zuccheri e di carboidrati. In verità la dieta migliore credo sia la dieta equilibrata, una dieta che abbia un buon rapporto nelle componenti di proteine, di carboidrati e di grassi. Probabilmente anche i grassi saturi possono essere mangiati, come studi recenti della moderna medicina ci dicono, e quindi vanno meno criminalizzate rispetto al passato. Alla fine una dieta corretta credo sia quella che sa rispettare il peso corporeo, per cui qualsiasi dieta è buona purché il peso sia conservato. Questo è il messaggio finale che si può dare. In sostanza non eccedere in niente? Non eccedere in niente, avere una dieta armonica, ben conservata e che permetta di avere un peso corporeo adeguato. Chiaramente alla dieta va anche aggiunta l'attività fisica, credo che sia fondamentale. Certo. Parliamo adesso di Cardiolucca. Allora, questo convegno ne abbiamo già accennato. 13 anni, è un successo sempre crescente. Com'è nata questa idea e come si è sviluppata? Perché proprio un convegno di così alto livello è riuscito ad attecchire nella nostra città? Io credo che tutto dipenda dal fatto che la cardiologia è una disciplina della moderna medicina in continua evoluzione. Negli ultimi 15 anni la cardiologia ha espresso e ha fatto passi da gigante, per cui per noi era importante non solo fare ricerche in campo cardiovascolare, ma soprattutto formazione in campo cardiovascolare. E credo che la formazione sia il momento di confronto più importante che ciascuno di noi ha con chi porta le proprie esperienze e trasmette alcune informazioni utili poi al nostro lavoro e quindi che hanno poi ricadute sul benessere dei cittadini. Per cui avevo considerato come momento importante quello dell'incontrarsi e fare formazione, discutere sulle evoluzioni della moderna medicina. Allora partì il primo Cardiolucca con poche decine di persone, poi Cardiolucca è cresciuta, è cresciuto, è cresciuto negli anni, è cresciuta, sia cresciuta di molto la partecipazione dei medici, che dalla regione toscana è diventata una partecipazione anche aperta ad altre regioni, anche a realtà estere. Per cui quest'anno un programma ben presentato con autorevoli relatori che vengono dall'estero e dall'Italia ha portato a una partecipazione con un'iscrizione ad oggi di circa mille persone. Per cui la città di Lucca, ospitale come sempre, ricca di storie e di arte, vedrà questo momento importante della cultura scientifica. E quindi è veramente un bel traguardo che ci pone al centro della cultura sanitaria nazionale. Prima di andare in pubblicità le faccio un'altra domanda che è arrivata da Alfredo da Lucca. Nell'ottica della prevenzione è consigliabile fare un'attacca coronarica per soggetti con ipercolestetolemia? Assolutamente no. Assolutamente no, nel senso che l'attacca coronarica è un esame importante, ma che va consigliato in determinati contesti e non può essere certo una routine, per cui uno si sente ad alto rischio cardiovascolare e decide di farsi un'attacca coronarica. Diciamo che la medicina non può riversare tutto verso la tecnologia. E questo è lo scontro importante della moderna medicina fra queste due energie, quella tecnologica e quella invece che guarda il paziente nella sua globalità. Io credo che proporre a tutti un'attacca coronarica così sia un messaggio non corretto e sicuramente che non fa neanche il bene delle persone, perché teniamo presente che nonostante la tecnologia sia avanzata, però l'attacca è un esame che espone a radiazioni, quindi non si può consigliare a tappeto a tutti. Diciamo che forse prende sempre un po' d'ansia quando ci sono problemi cardiaci e il paziente spinge magari per un qualcosa di più e il medico pure. Sicuramente, ma il paziente che ha paura spinge più sulla prevenzione cardiovascolare, quindi sa che è ad alto rischio e sa che deve springere sulla prevenzione. Quindi concetti elementari che possiamo sintetizzare in cinque grandi espressioni del consiglio della prevenzione, smettere di fumare se fuma, aumentare l'attività fisica se ha sedentarietà, rispettare il colesterolo, abbassare la glicemia se è diabetico e controllare la pressione arteriosa. Sono cinque momenti essenziali su cui potersi concentrare lì dove si riconosce un alto rischio cardiovascolare. Bene, allora ci interrompiamo, un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con altre domande per il dottor Bovenzi. A tra poco. Di nuovo in diretta con Dido e con il dottor Francesco Maria Bovenzi. Vi ripeto che non si può telefonare direttamente al numero che vedete in sovraimpressione, ma prendiamo domande tramite sms o whatsapp. Allora, riprendiamo con le domande che sono già arrivate. Questa arriva da Marco da Capannori. Da circa un mese ho valori di pressione minima a 95 e massima a 140. Sono stato da un cardiologo che mi ha prescritto il Plaunac. Ma è possibile abbassare la pressione in maniera naturale? Ma sì, assolutamente sì. In un primo stadio si deve sempre provare con gli stili di vita. Quei cinque consigli che io ho dato prima, secondo me, sono importanti. C'è l'attività fisica, la dieta, il perdere peso. È vitale per controllare l'ipertensione nelle forme lievi. Credo che basti questo, il consumo di sale, ridurre anche il consumo di sale, avere una vita sana. Si sottovaluta il potenziale di una semplice passeggiata al giorno? Si sottovaluta, probabilmente sì. Servirebbero almeno 30 minuti di camminata al giorno. E si risolverebbero tanti problemi così semplicemente? Assolutamente sì. Io credo di sì. Con quei valori descritti, credo che tra peso corporeo e attività fisica, si riuscirebbe a controllare al meglio la pressione senza bisogno di ricorrere alle medicine. È anche vero che oggi, grazie alla terapia medica, alle alchimie che i cardiologi, medici, gli internisti mettono in campo per controllare la pressione, è possibile nel 90-95% dei casi, anche più, avere un controllo pieno dei valori pressori. Per cui ogni approccio terapeutico deve essere finalizzato a un approccio che segue quello della correzione degli stili di vita. Allora, Raffaello ci chiede se ci sono correlazioni fra una cosiddetta vita stressata e problemi cardiaci. Penso proprio di sì. Ma sì, diciamo sì, anche se questo elemento è stato un po' eccessivamente sopravvalutato. Io lo vedrei questo elemento molto, è quello che noi studiamo anche a Lucca, nella donna anziana, in cui lo stress importante determina alcuni contesti clinici che noi, ripeto, studiamo, valutiamo, seguiamo, che si inquadrano proprio in forme di cardiopatia da stress, che hanno una storia molte volte benigna, ma il più delle volte che vanno seguite con molta attenzione. Si caratterizzano proprio nella donna, dopo la menopausa, dei 60, 70, 80 anni, che arrivano con condizioni di stress e che poi manifestano questi scompensi, queste cardiopatie. Ma quindi se non si è anziani si può anche dire che un po' di stress fa bene? Diciamo che qualsiasi eccesso nella vita fa male. Ecco, io non starei molto a criminalizzare lo stress che è qualcosa di incontrollabile e anche di indefinibile, perché quello che può essere stress per una persona può non esserlo per un'altra. Diciamo che tutti gli eccessi al cuore fanno male, ecco, diciamo questo. Quindi non riposare se mai fa male al cuore. Se stress vuol dire non riposare e dormire poco, ecco, sicuramente quello non fa bene al cuore. Ecco, parliamo allora dell'attività di cardiologia a Lucca e Castelnuovo. In questi anni possiamo dire che, insomma, la cardiologia nella nostra zona è diventata un'eccellenza a livello territoriale per i risultati conseguiti. Ma diciamo che i dati di attività nostri sono molto incoraggianti. Sicuramente esprimiamo il meglio in alcune patologie, quali la cardiopatia ischemica, il trattamento dell'infarto acuto del miocardio. Abbiamo anche avviato alcuni percorsi importanti che ci portano a far diagnosi di patologie un tempo definite rare, per esempio le endocarditi, per esempio queste forme di cardiopatie da stress. Diciamo che il nostro circolo piuttosto virtuoso nella comunicazione al nostro interno ci porta ad avere una qualità del lavoro che merita attenzione. È arrivato un messaggio, non è una domanda, è un complimento. Un medico eccellente e una grande persona, le dicono. I complimenti fanno sempre piacere. Grazie. Lei ha scritto anche un libro, con il solo battito del cuore, mi sembra che si intitoli. Ha affrontato il tema del rapporto tra medico e paziente, che secondo lei negli ultimi tempi, possiamo dire negli ultimi decenni, si è fatto meno stretto. C'è di mezzo la tecnologia, ci sono di mezzo i tempi, i budget, la pretesa. Lei dice anche della gente, dei pazienti, che si trovi subito una soluzione a tutto. E invece non è così. Sì, bisogna capire che la medicina non è una scienza esatta, è una arte probabilistica. E noi ci avviciniamo alla verità, cerchiamo di scoprire la verità, ma non è una scienza matematica esatta, perché c'è la componente biologica dietro ciascuno di noi, con una propria storia naturale. Quindi non è matematica, 2 più 2 fa 4. Noi cerchiamo, col nostro impegno, di arrivare sempre più possibile a scoprire questa verità. E questa verità ha due componenti, che sono le due grandi energie della medicina. Una componente tecnologica, oggi molto importante, che si scontra con una componente antropologica, che è quella del malato, del paziente, che noi andiamo a seguire, che ha questa sua componente biologica, ma che ha anche una sua storia personale alle spalle, che è una storia sociale, di cultura, di ambiente, di famiglia e di quant'altro. Ecco, il medico deve cercare di fare una sintesi fra queste due importanti energie. E da questa sintesi ne viene fuori l'inquadramento. Un inquadramento probabilistico su quello che può essere il problema per cui il paziente soffre e per il quale è riposta la nostra attenzione. Io credo che a Lucca, su questo aspetto, che è un aspetto molto umanizzante del nostro lavoro nei confronti del paziente, siamo abbastanza avanti, perché abbiamo impostato l'assistenza al letto del malato con questo nostro dedicarci, dedicarci in gruppo, in equip, un gruppo coeso, che affronta le problematiche insieme, che le discute insieme. E in questa maniera riusciamo a contenere di molto gli errori. Certo, non siamo infallibili proprio perché muoviamo verso un ambiente che non è mai esattezza. Però io credo che alla fine, stanchi, con l'impegno, andiamo a casa abbastanza soddisfatti del nostro lavoro. Bene, allora, seconda interruzione pubblicitaria. Torniamo tra pochi istanti. Siamo ritornati di nuovo in diretta con il dottor Francesco Maria Bovenzi, direttore di cardiologia a Lucca e Castelnuovo. Stasera parliamo di cuore e dintorni con le domande che ci state mandando. Allora, leggiamo la prossima. Buonasera. Dall'inizio dell'anno avverto dei battiti all'altezza dello stomaco. Prima solo di giorno, ora anche di notte. Da un controllo medico che ho fatto non sono emerse particolari patologie. Può essere un disturbo ansioso? Potrebbe essere un disturbo ansioso. Potrebbero essere quelle che si chiamano le extrasistoli, dette anche le complicanze della vita. Le extrasistoli sono questi battiti anticipati che uno avverte come battito d'ali nel petto oppure colpi o sussulti. Accompagnano anche i cuori normali, non devono preoccupare più di tanto. Credo che ciascuno di noi, tutti, abbiamo delle extrasistoli. I momenti in cui le extrasistoli si fanno sentire di più, questo non deve spaventare, soprattutto se, come ha detto l'ascoltatore, è stato visitato e la visita non ha dato esito rispetto a particolari problematiche. Quindi può stare tranquillo. Altra domanda. Buonasera, dottore. Ho 40 anni, faccio un lavoro sedentario, ma appena posso faccio attività fisica. Penso di avere una dieta equilibrata, eppure non riesco a abbassare i valori del colesterolo, che rimangono intorno a 240. Cosa devo fare secondo lei? Allora, cominciamo col dire che il colesterolo conviene guardare la componente LDL del colesterolo, che è una particolare componente, oltre al colesterolo totale. Quindi credo che il 240 sia riferito al colesterolo totale. La dieta incide, qualsiasi dieta anche severa, incide in una riduzione che è dell'ordine del 7-8, massimo 10%, ma è una dieta severa. Quindi il colesterolo purtroppo lo si può abbattere di poco con la dieta, lo si può abbattere molto di più con alcuni presidi farmacologici. Dipende dall'inquadramento del rischio della persona per poter poi agire e vedere se accontentarsi del solo 7% che uno può mettere in campo con una dieta attenta, rispetto al dover intervenire farmacologicamente. Ma sono in aumento i guai derivanti dal colesterolo, o semplicemente adesso c'è maggiore attenzione a questo problema? Il colesterolo è un killer importante, è una componente dei fattori di rischio rilevante. Avere per molti anni nella vita il colesterolo LDL elevato sicuramente non aiuta. LDL sarebbe quello cattivo per intenderci? Sì, anche se parlare di cattivo è buono e anche quella è una fiaba della medicina di un tempo. Oggi si guarda solo questa componente cattiva, questa LDL, e va però questa componente calata nella realtà di ciascun individuo, nel senso che può avere un significato clinico rilevante per chi ha già avuto un evento cardiovascolare, cioè ha già avuto un infarto, ha avuto angina, ha avuto un ictus. Può avere un valore diverso per chi invece lo controlla in prevenzione primaria, cioè senza aver avuto un danno già a livello cardiovascolare. Allora in questi casi la percentuale di riduzione in base al valore di partenza può portarmi ad avere delle strategie diverse da caso a caso. Per cui se io parto da un valore di 140 e ho già avuto un infarto, lo devo ridurre del mio 50%, quindi devo agire con dei farmaci importanti. Se ho 140 di LDL e non ho mai avuto un infarto, ho una vita normale, ho bassi fattori di rischio, non ho familiarità, la mia riduzione può anche essere quella auspicata con la semplice dieta. Colesterolo, l'altro tema che di solito si tratta quando si parla di cuore è quello della pressione. Quando bisogna preoccuparci? Con quali valori? Oggi le linee guida più moderne hanno portato ad abbassare più o meno i valori di riferimento del colesterolo, cosiddetti valori target, per cui sopra i 130 già si inizia un po' a porre l'allarme sul controllo della pressione, che può essere sicuramente controllata con lo stile di vita e in casi più importanti, anche in relazione a quella che è l'età, con i farmaci. Approcci che possono essere o di monoterapia, oppure come oggi si tende a fare, a ridurre la dose di due farmaci per ridurre gli effetti collaterali e partire con un approccio con una doppia terapia antipertensiva. Parliamo adesso di sanità in senso generale, perché per esempio in Toscana, dove la sanità è sempre stata considerata un modello a livello nazionale, negli ultimi anni ci sono state critiche. A Lucca abbiamo l'ospedale San Luca, che è stato spesso oggetto di queste critiche, il modello nuovo di assistenza, molti puntano il dito contro la mancanza di adeguati servizi territoriali. La prossima settimana c'è anche un consiglio comunale a Lucca dedicato ai problemi della sanità. Ecco, lei che lavora anche al San Luca, che insomma è un addetto del settore, cosa ne pensa di questa situazione? Io direi che il San Luca è una grande realtà, è un ospedale moderno, è un ospedale tecnologicamente evoluto, ci sono professionisti di eccellenza che lavorano all'interno del San Luca, ci sono delle equip che lavorano molto bene, per cui credo che il cittadino debba affidarsi al San Luca e un po' abbandonare questo attacco all'ospedale di Lucca che c'è stato all'inizio, quando l'ospedale è stato inaugurato. Probabilmente tutto è dipeso da un difetto di comunicazione che c'è stato e di informazione, ma oggi a distanza di 4 anni e più posso dire che l'ospedale di San Luca è una realtà forte, viva, su cui bisogna affidarsi perché sicuramente è una realtà che produce salute. Bene, allora, terzo break pubblicitario, ci rivediamo tra pochi istanti ancora con altre domande. A tra poco. Ultima parte della nostra trasmissione con il dottor Francesco Maria Bovenzi che risponde alle vostre domande sui temi del cuore e della cardiologia. Allora, iniziamo subito con le domande che ci rimangono. Quanto incidono gli omega 3 e 6 nei benefici cardiaci oltre al pesce? Consiglierebbe di integrare con preparati acquistabili in farmacia appunto gli omega 3 e 6? Grazie. Intanto che cosa sono gli omega 3 e 6? Spieghiamolo un po' a tutti. Allora, sono degli acidi grassi polinsaturi che vengono utilizzati come integratori nella dieta e che alcuni studi degli anni passati, anche riferiti alla popolazione deschimese che ne utilizza tanti perché sono contenuti oli di pesce che proteggono per le problematiche cardiovascolari utilizzando questi studi su popolazioni appunto che avevano un alto consumo di pesce sono stati fatti degli scondotti degli studi, soprattutto nell'infarto acuto del miocardio per vedere che tipo di protezione potessero dare. Questi studi che risalgono agli anni 80, fine anni 80 avevano risultati incoraggianti soprattutto per proteggere alcuni cuori infartuati da alcuni tipi di aritmie. In verità studi più moderni, alcuni dati di altri studi messi insieme che si chiamano meta-analisi non hanno poi mostrato questi grandi vantaggi di questi omega 3. Di sicuro aiutano a controllare una componente dei grassi del sangue che si chiamano trigliceridi e probabilmente potranno avere un effetto su alcune aritmie in alcuni cuori che hanno sofferto di ischemia. Oggi le linee guida e la moderna medicina li ha un po' retrocessi nelle indicazioni per cui anche la prescrivibilità di questi è stata molto limitata a livello nazionale per cui c'è un po' un ripensamento sull'utilizzo di queste componenti come integratori. Restano degli integratori in alcuni contesti che potrebbero avere la loro utilità ma una diffusione così a tappeto come protezione non la vedo. Allora, buonasera, sono Silvano Dallucca. Ho 84 anni e mi hanno riscontrato una fibrillazione atriale al cuore. C'è una cura ben precisa o ci devo convivere e che conseguenze può portare? Questa è una bella domanda, nel senso che ha puntato il dito su quella che è la più frequente delle aritmie nella popolazione, che è la fibrillazione atriale. Un'aritmia che cresce di molto con l'età e quindi parliamo di 84 anni. Purtroppo quando parliamo di fibrillazione atriale non parliamo di un unico tipo di fibrillazione atriale. Le fibrillazioni atriali vanno contestualizzate, non è un'unica terapia, non è un unico inquadramento. Il messaggio importante che posso dare è perché non si conoscono i dati di questa fibrillazione atriale per capire se può passare, se si può curare, se si può cercare di ripristinare il normale ritmo del cuore. Servirebbero delle altre componenti per poterlo dire. Di sicuro quello che possiamo dire è che la fibrillazione atriale espone al rischio di ictus e quindi lì dove c'è fibrillazione atriale o persistente o parossistica, cioè che va e che viene, una terapia adeguata, antitrombotica, anticoagulante, cioè che tiene il sangue fluido, è credo fondamentale. Per cui questo è l'aspetto, il messaggio più importante che si può dare nel nesso fibrillazione atriale e ictus, terapia antitrombotica. Poi è possibile controllare la frequenza, è possibile farla passare, ci sono dei farmaci, però va contestualizzata perché non è mai un'unica forma, ma le fibrillazioni atriali sono davvero tante. Allora vi ripeto, non chiamate direttamente, non telefonate, ma mandate messaggi, sms o whatsapp. Altro messaggio, non è una domanda anche in questo caso, grande persona, grande professionalità, grazie un suo paziente. E abbiamo già detto che ovviamente sono cose che fanno sempre piacere. Buonasera, dottore, mia mamma, 87 anni, soffriva di tachicardia sopravventricolare, ma con la cura che faceva da 5 mesi i battiti erano tornati nella norma e stava molto bene. Purtroppo però il 12 dicembre l'abbiamo trovata morta nel letto, praticamente nel sonno. Cosa può essere successo? È stato il cuore? È una domanda forse un po' complicata a cui rispondere. Sì, allora diciamo che una morte nel sonno sicuramente è stata legata a una morte improvvisa. Gran parte delle morti improvvise sono legate a un'aritmia temibile, pericolosa, brutta, che si chiama fibrillazione ventricolare. Ora, gran parte delle morti improvvise sono legate a questa aritmia, fibrillazione ventricolare, per la quale l'unica possibilità è quella di defibrillare il cuore. Però c'è una componente del 20-30% che rimane sconosciuta per quello che può essere stata la causa della morte nel sonno. Possono essere successi problematiche di rottura di grossi vasi del cuore, di rottura di aneurismi cerebrali, per esempio con emorragie cerebrali. Diciamo che si possono fare tante ipotesi. Forse il nesso tra la tachicardia parossistica di cui soffriva e la morte improvvisa pone sicuramente più allarme nella componente cardiologica legata alla morte improvvisa e quindi di questa aritmia che è la fibrillazione ventricolare, che non è prevedibile, questo è bene dirlo, assolutamente non è prevedibile, altrimenti si perderebbe il concetto dell'assoluta tempestività improvvisa, morte improvvisa, di quello che è stato l'evento. E quindi si può dire poco, ecco, se non questo. Allora, continuiamo a parlare di aritmie. Mi chiamo Paola, ho 56 anni, mi prendono ogni tanto aritmie sovraventricolari spaventose, non riesco a gestire il battito se non con una respirazione adeguata. Cosa posso fare? Sono pericolose? Una volta passate tutto torna normale. Ma anche qui non si può generalizzare, nel senso che bisogna capire che tipo di aritmie sono. Può essere la normale tachicardia che uno ha in contesti di sforzo, esercizio fisico, ansia, o tensione o aspetti psicologici, oppure possono essere aritmie come la tachicardia parossistica sopraventricolare, la fibrillazione atriale. Ciascuna di queste aritmie, che ha un nome e cognome che va identificata, ha delle soluzioni che sono diverse l'una dall'altra. Quindi la tachicardia, anche questo, è un mare magno, nel senso che bisogna capire di che tipo di tachicardia si tratta. Oggi esistono degli apparecchi che registrano anche per tempi prolungati il battio del cuore, quindi l'utilizzo di questi apparecchi può consentire di fare la diagnosi. Sono un signore, questa è una domanda curiosa, sono un signore di 72 anni, volevo sapere, ma gli incubi possono danneggiare il cuore? Ma mi sembra un po' un volo pindarico tra incubo e malattia del cuore, mi sembra un volo pindarico. Sicuramente l'incubo può dare tachicardia, può dare una situazione di emozione in quel momento, e quindi accelerazione del battito cardiaco, tensione, paura, però danneggiare il cuore mi sembra un po' eccessivo. Questa è una domanda molto specifica invece, la marcata deviazione a sinistra è pericolosa? La marcata deviazione a sinistra è espressione di un cuore che ha una massa muscolare un po' aumentata, per cui lì dove c'è un asse elettrico del cuore deviata a sinistra, vuol dire che c'è quella che in termini medici si chiama ipertrofia, cioè un aumento della massa del cuore. Questa è la causa più frequente della deviazione assiale sinistra, e quindi bisogna capire questa ipertrofia del cuore se è legata, come negli atleti, all'attività sportiva o come negli ipertesi a una pressione arteriosa che non è ben controllata, o che negli anni non è stata ben controllata, oppure legata a valvolopatia, a tanti contesti. Però ecco, il significato della deviazione assiale sinistra di solito è quello, un aumento della massa muscolare. Simonetta da Lucca ci scrive, infarto del mio cardio a 38 anni, complicato, transitoria, disfunzione ventricolare sinistra, è vero che non mi servono gli esami sotto sforzo? E perché prendere il Torvast se non ho problemi di colesterolo? Allora, è vero che non servono esami sotto sforzo, questo lo condivido pienamente, perché credo che il controllo dopo un infarto più importante sia quello clinico, e quindi la non comparsa del dolore o di altri sintomi che poi vanno decodificati nei vari contesti. Ma a volte fare la prova sforzo così, come se fosse una cambiale a scadenza fissa, non serve davvero a nulla. Per quanto riguarda il Torvast, evidentemente è legata alle placche che sono state viste all'interno delle coronarie, quindi l'utilizzo di statine molte volte è passiva alle placche, quindi anche se il colesterolo non è molto elevato, bisogna vedere qual è appunto il livello di partenza di quell'LDL colesterolo, e si tende sempre a tenerlo al di sotto i 70 per chi ha avuto un evento cardiovascolare. Parliamo sempre di LDL colesterolo, quindi bisogna capire quello che è stato trovato a 37 anni all'interno delle coronarie, poi probabilmente trattato e trattato bene, coronarie riaperte, ma non serve fare la prova sforzo sempre, probabilmente le statine hanno il loro significato. Il professor Bovenzi è una professionalità che Lucca deve valorizzare, si legge in questo messaggio, un medico che segue i pazienti in modo personalizzato e non come un numero, firmato un paziente. Allora, continuiamo con le domande. Buonasera dottore, riesci a spiegare il perché di tutte queste morti improvvise negli uomini giovani oppure negli atleti professionisti? Grazie. Allora, sì, questa è una domanda che molte volte si sente fare, viene alla mente il capitano della Fiorentina Astori, che è morto improvvisamente, la morte di un atleta giovane fa sempre una grande impressione. C'è una spiegazione generica, generale che possiamo dare? No, diciamo che oggi la medicina moderna riesce sempre a trovare una giustificazione in queste morte, come è stato per il caso del giocatore della Fiorentina Astori, nel senso che fa capire quali sono le patologie più a rischio di morte improvvisa. Alcune cardiopatie cosiddette strutturali, in brutto termine, ma per identificare alcune forme di cardiomiopatie, come la sostituzione del tessuto normale del cuore da tessuto adiposo, all'interno soprattutto del ventricolo destro, ma anche in altre zone del cuore, può determinare delle patologie non diagnosticabili, sicuramente in vita, con esami normali, che solo alcuni esami molto sofisticati, come la risonanza magnetica, può far vedere, ma non sono tutte queste componenti. Poi ci sono altre patologie, cosiddette canalopatie, in cui le cellule hanno dei difetti nella far conduzione, nella conduzione dell'impulso cardiaco, aprendosi, aprendo dei canali o chiudendo dei canali e facendo transitare degli ioni che determinano delle modificazioni e la facilità di comparsa di ritmie mortali, per le quali anche qui è difficile in vita poterle prevedere, è difficile in vita poterle inquadrare. Molte volte si riesce, per cui molti atleti vengono scartati dall'attività fisica, con degli esami preclinici, prima di avviarli, soprattutto professionisti, all'attività agonistica importante. Altre volte questi dati possono sfuggire, può essere fisiologico che sfuggano. Diventa grave quando sfuggono in presenza di sintomi. Cioè quando l'atleta riferisce dei sintomi, ecco che l'atleta va studiato a fondo, a fondo, a fondo, con tutte le armi che oggi la moderna medicina ha, e che sono tante, in termini diagnostici. Ecco, lei lo scrive anche nel suo libro, non sottovalutare, non generare ansia, ma i medici non devono neanche sottovalutare quello che dicono i pazienti. No, assolutamente no, il sintomo va sempre inquadrato. Io dico sempre che il paziente ha sempre ragione, per cui ogni sintomo va inquadrato, bisogna sempre cercare di dare una risposta, e non fermarsi mai, ma quando non si è convinti, è approfondire e andare sempre avanti. Allora, andiamo verso la conclusione, cerchiamo di fare le ultime domande, soffro di miocardiopatia dilatativa, di scompenso cardiaco, tengo controllato il colesterolo con un farmaco con statine, il mio problema più grande e altamente invalidante è la pressione bassa, in questo caso, da 71 a 90, raramente 100-110, come si potrebbe migliorare la situazione? Ho 70 anni, grazie, faccio notare che prendo due compresse di diuretico ogni due giorni. Ma la pressione bassa è una forma di cardiopatia dilatativa, è quasi la regola, nel senso che il cuore ha una funzione di pompa, quindi sviluppa un'energia che determina poi il livello di pressione. Se questa energia viene meno perché c'è una forma di miocardiopatia dilatativa ipocinetica, quindi la contrattilità del cuore non porta a avere questo sviluppo di pressione alta o normale, insomma a valori 130-140, ma tende la pressione ad essere un po' più bassa. Questo è il motivo per cui è utile la terapia diuretica, fa bene a prendere i diuretici, perché se il cuore pompa poco, il sangue va avanti con difficoltà, il sangue ristagna nei polmoni e quindi bisogna aiutare questi polmoni a decongestionarsi e quindi fare uso di diuretici per far sì che anche il respiro sia un respiro adeguato. Buonasera, l'acido urico alto è un fattore di rischio nella cardiopatia? Assolutamente sì, perché è un potente ossidante e quindi conviene l'acido urico controllarlo. È una spia di dismetabolismo trascurata negli anni dalla medicina, ma oggi molto rivalutata, per cui credo che bisogna fare molta attenzione all'acido urico alto e controllarlo con l'alimentazione ed eventualmente con i farmaci. Che tipo di controlli preventivi devo fare, dato che mia madre e mia zia sono morte per infarto? Io ho 62 anni. Essenzialmente controllare i fattori di rischio. Quindi torniamo sempre a quei 5 consigli che ho dato all'inizio. Cioè se c'è un po' di glicemia alta, controllarla, fare attività fisica regolare, controllare la pressione arteriosa, controllare l'LDL e colesterolo, avere uno stile di vita sano. Poi controlli purtroppo non ci danno la certezza di poter controllare l'eventuale evento clinico che può sopraggiungere anche dopo una vista che ha fatto un medico un elettrocardiogramma un giorno X e tre settimane dopo, una settimana dopo il paziente si ritrova con un evento coronarico. Quindi diciamo che non esiste un controllo che ti permette di prevenire un evento in uno che ha familiarità, ma esiste la forte determinazione a controllare i fattori di rischio per evitare che un evento possa accadere. Mi hanno riscontrato un ponte intramiocardico della coronaria discendente anteriore. Si può operare a 49 anni? Bella questa domanda, per cui la risposta è chiara e forte ed è controllare la frequenza cardiaca. Chi ha un ponte muscolare ed è asintomatico, ponte muscolare sulla coronaria ed è asintomatico, non deve operarsi, non deve trattare il ponte muscolare, ma deve far sì che il suo cuore batta con una frequenza non alta. Non alta vuol dire tra i 48-50 e i 68-70. Allora, perfetto, siamo davvero in chiusura. Prima di chiudere però, avevo piacere se ricordava quei 5 consigli per la prevenzione della salute del cuore, perché poi alla fine sono le cose più importanti. Ripeto, molte volte si sottovaluta il potenziale di una passeggiata, una semplice passeggiata fatta ogni giorno, invece può cambiare in qualche modo e in un certo senso la vita. Diciamo la passeggiata, diciamo l'abolizione del fumo, diciamo il controllo del colesterolo, il controllo della glicemia e il controllo della pressione alta. Quindi questi 5 caposaldi e poi si può affrontare la vita con una leggerezza in più, diciamo. Certo, assolutamente sì. Bene, grazie al dottor Bovenzi che è stato nostro ospite questa sera, ricordo Cardiolucca la prossima settimana. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.